Questo appuntamento è offerto da Stai cercando un'auto usata? Da Seal Auto trovi automobili delle migliori marche, utilitarie, SUV, berline e station wagon. Ci occupiamo inoltre di acquisto auto e permuta, di noleggio con formule personalizzate a breve termine, giornaliero o lungo termine. Il team di Seal Auto è a disposizione ogni giorno presso il salone di Roreto di Cherasco, in via Trento Trieste. Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 19.30, sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30. Per informazioni per la vendita, 388-199-5611. Per il noleggio, 389-44-65-557. Macelleria Tutto Carni, fondata e gestita con grande dedizione da Vittorio Esoardi, da quasi dieci anni offre carni di prima qualità di animali allevati in Italia. Da noi trovate una grande varietà di prodotti, dai tagli freschi ai preparati. Potete prenotare telefonando o inviando un messaggio al 333-60-55134. Macelleria Tutto Carni, a Roreto di Cherasco, in via Bra, numero 28. Centro Produzione Serramenti. La nostra flessibilità e professionalità ci permettono di soddisfare piccole e grandi forniture di edilizia civile, industriale e sociale. Assistenza Pratiche Eco Bonus del 50% e Super Bonus del 110%. La nostra esperienza artigiana unita alla qualità di prodotti esclusivamente italiani. Centro Produzioni Serramenti, a Roreto di Cherasco, via Cuneo 18, telefono showroom 344-12-82-801, commerciale 348-85-31948. Lo spazzacamino di Manfredi Thomas. Da 15 anni ci occupiamo di video ispezioni, pulizie e installazione di canne fumarie con relativa certificazione. Non aspettare che il camino prenda fuoco con gravi ripercussioni. Chiamaci al 331 29 12 811. Come facilmente riscontrabile da chiunque faccia due passi per le vie della città, Cherasco è un vero e proprio scrigno di palazzi ed edifici dal grande valore artistico e soprattutto storico, a cominciare dal Palazzo Comunale. L'edificio, di origini medievali, è dominato dalla mole dell'alta torre civica in cui si mescolano tracce di antichi interventi e modifiche. Nella parte alta un tipico orologio scandisce le ore assieme a una meridiana con decori barocchi. Anche nello stesso palazzo emergono particolari sia decorativi che strutturali del periodo gotico con pesanti sovrapposizioni dell'età barocca. Lo stemma sulla facciata fu dipinto da Sebastiano Taricco che vi raffigurò il tanaro e l'ostura simboleggiati da un uomo e una donna che bagnano i piedi nella confluenza dei due corsi d'acqua. Musica Palazzo Salmatoris è la sede in cui si svolgono le più importanti manifestazioni artistiche e culturali della città. Fu ricostruito agli inizi del 1600 da Giovanni Salmatoris che a Lione si era arricchito con il commercio delle sete dovuto al grande sviluppo dell'allevamento delle sete. Nello storico palazzo si sono svolti eventi di grande importanza storica come la pace del 1631, la temporanea sistemazione della Sacra Sintone scortata da Torino da Madame Reale Cristina di Francia del 1706 ed il noto armistizio del 1796 voluto da Napoleone. Nell'interno il grande scalone d'onore ci conduce ai piani superiori dove nelle varie sale vi sono affreschi di Niccoli di Robilante, del Della Mano e del Taricco che tanto operò nella città. Una serie di ritratti ricordano poi i protagonisti dell'armistizio di Cherasco che ordano la famosa Camera della Pace dove si svolsero le trattative fra cui ricordiamo l'articolo in cui Napoleone pretese a titolo di indennizzo la cessione di 110 opere d'arte del Regno di Sardegna. Grazie a tutti. Altrettanto degno di note è Palazzo Gotti di Salerano, palazzo secentesco ornato da un imponente portale decorato con stemmi nobiliari. Il suo interno ospita le collezioni dell'ecclesiastico quadri anni storico dei Savoi articolati in diversi settori dall'archeologia alla pittura, dalle raccolte numismatiche alle stampe, documenti autografi, sigilli, carte geografiche. Le sale sono affrescate magistralmente da Sebastiano Taricco, che era schese con temi allegorici. Musica 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 E' impossibile non citare il castello ai palazzo i piedi. Castello Visconteo fu costruito alla fine del 1300 quando dopo un pesante assedio Lucchino Visconti, signore di Milano, scacciò i Savoia dalla città e volle un segno della sua conquista rafforzando così le difese della città. Nell'aspetto esteriore l'edificio ha mantenuto le sue caratteristiche di fortilizio medievale mostrando merri e feritoie. A pianta quadrata mostra nei vertici quattro robuste torri merlate ripetendo così la sua tipica struttura difensiva del tempo e ricordando in dimensioni ridotte il vicino castello degli Acaia di Fossano. Nel suo interno si svolsero anche storie drammatiche come quella del giovane Paggio gettato da una torre dalla regina Giovanna D'Angio o quando nelle sue carceri furono rinchiuse nel 1686 circa 2000 valdesi. Ristrutturato nei primi del 1900 dai privati vi fu costruita nella corte una palazzina settecentesca con un grande giardino all'italiana in cui vengono svolte varie attività. questo appuntamento è stato la tua offerta da Stai cercando un'auto usata? Da Seal Auto trovi automobili delle migliori marche utilitarie, SUV, berline e station wagon. Ci occupiamo inoltre di acquisto auto e permuta di noleggio con formule personalizzate a breve termine, giornaliero o lungo termine. Il team di Seal Auto è a disposizione ogni giorno presso il salone di Roretto di Cherasco in via Trento Trieste. dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 19.30, sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30. Per informazioni per la vendita 388-199-5611, per il noleggio 389-446-557. Macelleria Tutto Carni, fondata e gestita con grande dedizione da Vittorio Esoardi da quasi 10 anni offre carni di prima qualità di animali allevati in Italia. Da noi trovate una grande varietà di prodotti, dai tagli freschi ai preparati. Potete prenotare telefonando o inviando un messaggio al 333-60-55134. Macelleria Tutto Carni, a Roretto di Cherasco, in via Bra, numero 28. Centro produzione serramenti. La nostra flessibilità e professionalità ci permettono di soddisfare piccole e grandi forniture di edilizia civile, industriale e sociale. Assistenza pratiche ecobonus del 50% e superbonus del 110%. La nostra esperienza artigiana unita alla qualità di prodotti esclusivamente italiani. Centro produzione serramenti. A Roretto di Cherasco, via Cuneo 18. Telefono showroom 344-12-82-801. Commerciale 348-85-31948. Lo spazzacamino di Manfredi Thomas. Da 15 anni ci occupiamo di video ispezioni, pulizie e installazione di canne fumarie con relativa certificazione. Non aspettare che il camino prenda fuoco con gravi ripercussioni. Chiamaci al 331 29 12 811.